E' rallentato il mercato del lavoro in Italia e di riflesso anche in Abruzzo, a risentirne in particolare il settore dell'automotive, che è un settore trainante per la provincia di Chieti. I dati elaborati da CGL sulla base di uno studio Istat e di uno studio del Polo di Innovazione Automotive di Santa Maria in Baro sono preoccupanti. Sì, diciamo che la situazione non è propriamente erosia, è una situazione che ci fa pensare che qui ci sia bisogno di mettere seriamente mano a un'idea di riorganizzazione dell'intero settore produttivo dell'automotive, che è comunque un settore trainante per questa provincia in maniera molto seria perché chiaramente comporta anche in termini economici un buon livello di produttività, soprattutto per l'export. Quindi c'è questa necessità di avere una certezza rispetto a come e in che modo in futuro si andrà a ricollocare e a riorganizzare il settore. Meno 11% è il dato che riguarda l'export dell'automotive da luglio a settembre 2021, ma sono anche le piccole e medie imprese a risentire di questa situazione e tutto il comparto del lavoro in Abruzzo da quando è partita la pandemia? Assolutamente, la pandemia certamente ha ulteriormente ampliato quello che già era un effetto negativo. Però ci sono settori che reggono o che riescono a crescere, ci sono settori come appunto quello dell'automotive che non reggono e che anzi arretrano nell'ultimo trimestre che è quello censito. Vedremo i dati al 31 dicembre, ma chiaramente non sono dati al momento positivo. Cosa chiedete? Noi chiediamo semplicemente che si faccia una discussione vera, seria, ma soprattutto veloce, oltre ai tavoli regionali, oltre a quello che si sta facendo sui somministrati e quant'altro, c'è bisogno di cominciare ad avere una chiara idea anche a livello provinciale. C'è bisogno di avere un'idea complessiva da sottoporre a livello anche ministeriale, perché o siamo in grado di inserirci in questa discussione dell'innovazione tecnologica del PNRR, anche attraverso soluzioni che mettono nelle condizioni le imprese di rimanere in questo territorio, o altrimenti noi rischiamo di rimanere e di assistere passivamente a una trasformazione endemica del settore. Sottoporre